Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale. È iniziato ieri pomeriggio il Fide Grand Swiss, uno dei tornei a tempo lungo classico più importanti dell'anno. Infatti più di 100 tra i più forti giocatori del mondo si sfidano in un tabellone svizzero ad 11 turni ed i primi due classificati si aggiudicano un posto per il prossimo torneo dei candidati. Visto che all'inizio ci sono tantissime partite, anche molto interessanti, non è facile soprattutto ai primi turni scegliere quale partita mostrarvi. Io ho scelto di guardare insieme una bella partita, la partita tra Hans Niemann ed Elam Amar, giovane e grande maestro norvegese. Ma prima di iniziare lasciatemi salutare e ringraziare Jacopo e Daniels, due nuovi abbonati alle mie lezioni che ormai lo sapete, trovate qui sul canale a soli 2,99€ al mese. E poi come vi avevo promesso potete vedere subito qui alla destra della scacchiera una bella novità. Ho infatti acquistato il nuovo Chessbase 17 che ha tante funzioni in più e tra queste appunto come potete vedere la barra di analisi sempre in evidenza che naturalmente cambia al variare della posizione. Era una cosa che mi avevate chiesto, spesso anche in passato, e quindi io lo sapete mi piace sempre accontentarvi e mi piace anche migliorare costantemente il canale. Vi chiedo in cambio un piccolo aiuto, vi chiedo di iscrivervi al canale se vi piacciono i miei contenuti in modo tale da aiutarmi a farlo crescere. Poi vi presento, vi propongo il servizio Audible di Amazon. Noi in famiglia siamo abbonati da tanto e siamo contentissimi. Se amate o se volete provare gli audiolibri e i podcast non c'è niente di meglio di Audible. C'è addirittura la prova gratuita da 30 giorni e come al solito quando i servizi sono fatti bene con un click si cancella all'istante. Se usate i miei link che trovate sotto ogni video aprendo la descrizione sotto il video naturalmente date una mano a me al canale perché io essendo un affiliato a Amazon ricevo delle commissioni. E allora come al solito vi ringrazio tantissimo, non dimenticate di like al video e partiamo subito. Perché questa partita Hans Niemann di bianco apre con E4 e allora il grande maestro norvegese Ammar risponde con C5 la difesa siciliana. Cavallo in F3 e arriva D6, Niemann va per la siciliana aperta, arriva D4. C per D4, il cavallo ricattura, cavallo in F6, il bianco gioca cavallo in C3 con cavallo in C6. Siamo nella siciliana classica. E allora Niemann sceglie la variante Richter Hauser, alfiere in G5. Guardate che prima o poi è veramente una minaccia il discorso alfiere su cavallo. E allora E6 è la continuazione principale, donna in D2 anche per arroccare lungo e arriva A6. Importantissimo controllo sulla casa B5. E allora Niemann arrocca lungo, arriva alfiere in D7 e adesso attenzione perché la spinta immediata F4 è la continuazione principale, invece Niemann preferisce giocare F3 e ne vedremo le ripercussioni. Arriva alfiere in E7, re in B1, classica mossa di attesa che toglie il re dalla colonna semi aperta C e anche dalla diagonale scura, nuova protezione su A2, quindi un Niemann decisamente posizionale. Donna in C7 è la mossa più giocata, il computer senza paura suggerisce addirittura di arroccare subito corto. Altra ottima idea, come fatto da Amarri in partita, il cambio dei cavalli. Cavallo per cavallo in D4, la donna ricattura, arriva donna in C7. Attenzione perché ci sono delle manovre a disposizione del nero interessantissime. Alfiere in C6 adesso che non c'è più il cavallo, la torre in D8 dietro il pedone D, scacciare l'alfiere con posizione veramente a doppio taglio. E allora Niemann torna indietro con la donna in D2, quindi come dicevamo prima, alfiere in C6, torre in D8, una bella manovra che quasi nessuno gioca, pensate? Quasi tutti, come in questa partita, giocano B5. Ma guardate che differenza con le posizioni della linea principale. Questa B4 che attacca il cavallo e lo farà spostare, certo fa paura, ma fa meno paura del solito perché il pedone centrale non è più protetto solo dal cavallo. F3 ha cementato il centro. E allora arriva H4, H6 attacca l'alfiere. Solo 10 partite rimaste in database, pensate, il nero ne vince 7 di queste 10 partite. Due patte ed una vittoria del bianco, l'alfiere sotto attacco torna indietro in E3. Di nuovo l'alfiere in C6, addirittura in questa posizione mai giocata e la mossa migliore. Quasi tutti, come in questa partita, come Amar, giocano H5. Il computer vede tante belle preparazioni per l'attacco sul lato di re. Cosa farebbe il computer? Inizierebbe con A3, giusto per controllare di nuovo questa casa B4. E dopo torre in D8, guardate quante idee che vede. Secondo me la più umana è torre in G1, poi per proteggere il centro naturalmente arriverà anche al fiere in D3. Torre in G1 per la spinta in G4. Ma addirittura il computer vede torre H3 per torre in G3. o addirittura torre in G1, donna in E1 per poi entrare con la donna in G3. Veramente tante belle idee, anche capibili. Neiman gioca un'altra mossa buona che praticamente va a riprendersi la casa G5 dopo che il nero l'ha lasciata libera avanzando in H5. E allora arriva B4, cavallo sotto attacco si porta in E2, qui è tutto protetto, attenzione si perde il pedone. Il nero deve giocare A5, cavallo in D4, è la mossa più giocata. E invece arriva una mossa interessantissima di Neiman, C4. Guardate che succede praticamente. Giocata una sola volta questa mossa, una sola partita rimasta in database, vinta dal nero che aveva giocato in quella partita al fierino A4 che attaccava la torre. Certo che la torre portandosi dietro il pedone non è che stia malissimo. Non è che stia malissimo. Donna in B7 invece mai giocata mi pare sicuramente buona. Come mai catturare il pedone non funziona? Ve lo faccio vedere subito. La cattura Anpassan praticamente migliora il cavallo del bianco. E guardate, il salto del cavallo mette in mano l'iniziativa al bianco, quindi non va bene. Dopo C4 non va bene neanche la ricattura di donna, perché guardate quanto è forte questa E5. Quanto è forte questa E5. E dopo cavallo in D5, torre in C1 attacca la donna e il nero si trova in grandissima difficoltà. E allora in questa posizione non gioca Alfiere in A4 Amar, non gioca donna in C7, gioca E5. Dopo E5, Neiman migliora il cavallo in G3, torre finalmente in D8, Alfiere in E2 connette le torri, Alfiere in E6. Attenzione, secondo attacco sul pedone. Ma questo pedone risulterà comunque intoccabile, perché attenzione a non farsi inchiodare il pezzo sulla donna. E allora cavallo in F5, guardate che brutta minaccia che fa, minaccia di togliere, allora intanto minaccia di catturare in G7 con scacco, minaccia di togliere al nero la coppia degli Alfieri. Allora visto che questo è intoccabile, il nero cambia l'Alfiere per cavallo in F5. Il pedone ricattura, e qui siamo al momento critico di questa partita, perché il nero Amar commetterà un errore. Questa posizione, arroccare corto, è sicuramente buono. Vi faccio vedere una nuova funzione di chessbase 17, che è un po' incasinata, ma se ve la mostro nei momenti giusti della partita può essere veramente interessante. Guardate come chessbase all'istante identifica in D6, nel pedone D, quello in rosso, l'elemento più debole dello schieramento del nero. Un altro elemento debole, come potete vedere, è la torre, che è sospesa, e quindi arrocco corto, ora vi tolgo questa funzione, arrocco corto sicuramente migliorerebbe, connetterebbe le torri per poi lavorare al centro per eliminare questa debolezza. Cosa fa Amar? Lui pensa di poter eliminare questa debolezza del pedone D avanzando il pedone in D5, ma questo è un errore tattico? E allora noi siamo arrivati al nostro quizzone. Qual è secondo voi la risposta migliore a disposizione di Neiman? Mettete pure in pausa, ed a voi la parola. Ritorniamo subito a noi. Neiman trova la continuazione migliore che è Alfiere per cavallo in F6. Va a togliere un difensore al pedone. Guardate, qui catturare vuol dire perdere un pezzo pieno, perché se D per C4, donna per torre in D8 con scacco, l'alfiere ricattura, torre che cattura in D8 con scacco, e per forza qui la donna deve catturare, donna che cattura, l'alfiere ricattura, il re ricattura, e gli è rimasto un alfiere di vantaggio al bianco. E allora, dopo alfiere per cavallo, il nero è costretto a riprendere D alfiere, ridendo e scherzando. C per D5, vince un pedone ed è un pedone passato. E allora in questa posizione, donna in D7 è l'idea più forte, e invece arriva Rocco Corto. Il pedone passato avanza in D6. Arriva donna in D7 e arriva anche G4. Attenzione, attenzione, non è che protegge soltanto il pedone, ma praticamente si minaccia G5, che intrappola e vince l'alfiere. E allora è 4, libera la casa E5 per l'alfiere, e Neiman trova la continuazione più forte. Donna in D5, controllando, e facendo anche altre minacce, ma controllando E5, di nuovo mette a rischio questo alfiere. Cosa bisognerebbe fare? Probabilmente bisognerebbe giocare E per F3, in modo tale da tentare una minaccia uguale e contraria. Arriva B3, attenzione però a non farsi catturare, perché dopo se si apre la colonna è un disastro. E allora Neiman cattura col pedone A in B3, torre in B8. Ma qui si perde praticamente, anzi, non è vero che si perde un pezzo pieno. Arriva G5, l'alfiere si potrebbe ritirare in D8. Ma che succede se l'alfiere si porta in D8? Che arriva F per E4, e qui guardate che disastro, c'è un attacco terribile sul lato di Re. E allora dopo G5 il nero è disperato, tenta un contraattacco, lascia il pezzo in presa, l'alfiere in presa, e tenta un contraattacco direttamente sul Re. Pedone G cattura l'alfiere in F6, A per B3, attenzione che qui torre in H che va in G1 è la mossa più forte. Donna in D4, un'altra bella idea. Donna che cattura il pedone in F5, torre in H che va in G1. E allora il nero tenta il tutto per tutto. Donna in A5, attenzione che il Re può scappare tramite C1, ma se ci fosse già una torre in A8, e allora Donna in A1 sarebbe scacco matto, quindi qui si minaccia un matto in 2, ma intanto arriva la cattura della torre in G7 con scacco, Re in H8, altra grandissima mossa, torre in G5 di Neiman. E allora il nero è costretto, e non può aspettare di piazzare l'altra torre, è costretto a giocare Donna in A2 con scacco, Re in C1, torre in F in C8 con scacco, Re in D2. Torre in C2 con scacco, continua la grande fuga del Re di Neiman, Re in E3, Re in H7, Donna che cattura in E4 con scacco, Re in H6, ma pensate, c'è già il matto in 2. Sacrificio di Torre di Neiman, il nero abbandona, perché il Re è costretto a catturare, e Donna in H7, scacco matto. E allora veramente una grandissima partita di Neiman, una siciliana classica, veramente combattuta con tantissime idee, spero che vi sia piaciuta, spero che il Chessbase 17 vi abbia fatto vedere cose nuove che ci possano piacere, che fanno migliorare il canale. Io come al solito vi ringrazio tantissimo per l'ascolto, iscrivetevi al canale per guardare insieme tutti i migliori tornei di scacchi, e naturalmente noi seguiremo da vicino questo Gran Swiss, e ci rivediamo domani con un nuovo video. A presto! Grazie a tutti!